E c'è l'esordio di Mirian Silla in Maglia Milano. La risposta è di Ungureanu Murata e allora Greiber dopo il muro la difesa di Negretti, la palla è ancora viva! Ma arriva la martellata del capitano azzurro, Mirian Silla, primo punto monzese! C'è la difesa, allora Silla tutto a braccio, diagonale verso posto uno, posizione totalmente sguarnita. La palla torna di là nel campo di Milano, allora Silla va ad attaccare, addirittura un tocco sopra il muro per Mirian Silla. Silla, orro, va dalla sua compagna in nazionale azzurra che va a segno, 10 a 7 Mirian Silla. Devono essere a quota sette muri, in sezione di Moro, Brandia lì dietro, un passo di tronco per Akrari e allora Silla va a murare, 19 a 10. Siazione di Meghi, c'è orro per Silla! Vola altissimo Mirian Silla!